Musica Eccoci prontissimi con il caffè della domenica mattina a darvi il buenos dias e siamo pronti a collegarci con Mariana e vediamo di quale telenovela ci parlerà quest'oggi Allora la parola a te Mariana e intanto mi bevo il caffè insieme a voi Buenos dias amici di Telenovela Serie TV Music, eccoci qui a parlare di un nuovo titolo Si tratta di Figli Miei Vita Mia, telenovela brasiliana del 1984 arrivata in Italia su Quarta Rete nel febbraio del 1986 Tutti ricordiamo la bellissima sigla Figli Miei Vita Mia, cantata da Raul Casadei e contenuta nell'omonimo album La storia è incentrata sulle vicissitudini di una vedova di San Paolo, Lucia, madre di tre figli maschi Nel 1996 è stato realizzato un remake della storia intitolato Rajao de Vezer Nel cast di questa nuova versione troviamo anche l'attrice brasiliana amatissima in Italia Anna Paola Rossio E per oggi è tutto, vi do appuntamento a domenica prossima con un altro titolo Ciao! Ciao!